Ciao a BetTaste.it! Sono sconvolto, colpito e affondato dalla potenza di Toy Story 4, dalla bellezza di Toy Story 4, dalla complessità di Toy Story 4 e dal fatto che Toy Story 4 ricomincia tutto sostanzialmente. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato? Eravamo rimasti leggermente delusi dalla non eccezionalità di Incredibili 2 rispetto al primo Incredibili, ma ecco che Disney Pixar addirittura con un numero 4, che di solito è molto meno nobile del numero 2, arriva a fare un qualcosa che io francamente non mi sarei mai aspettato, mai aspettato che Toy Story 4 mi piacesse così tanto. Sono tanti film in uno, in cento minuti ci hanno messo l'avventura, ci hanno messo la commedia, ci hanno messo la storia d'amore, perché è una storia d'amore, ci hanno messo il dramma singolo, il dramma di un singolo, ci hanno messo l'horror sull'abbandono e gioca molto con l'horror questo Toy Story 4 perché nella settimana in cui esce la bambola assassina avremmo a che fare con dei manichini e con delle marionette che ricordano quella terribile di Incubi Notturni, il bellissimo episodio del ventrilogo e del suo pupazzo non proprio ben intenzionato. E allora eccolo questo capolavoro perché di capolavoro si tratta, Toy Story 4 di Josh Cooley, tante persone al soggetto, due persone in sceneggiatura, Josh Cooley fresco, freschissimo, arriva la coolness di Cooley, la sua freschezza, la voglia di sfondare tutto e quindi un prologo magnifico con un'alluvione che in confronto si mangia quella dei hit, con sta pioggia che arriva, ste gocce di pioggia viste dal punto di vista dei giocattoli giganteschi, i fiumi in piena e siamo in un prologo flashback tra il secondo e il terzo Toy Story dove qualcuno ci lascia e serve questa cosa perché già vediamo molto di un dolore e di due visioni del mondo completamente opposte. È anche un film sul Women Power ovviamente, su qualcosa che loro stanno inserendo in qualsiasi modo, in qualsiasi film, in un modo giusto dal mio punto di vista e anche questo è cinema politico, loro che sono stati coinvolti attraverso la vicenda di John Lasseter fuori dagli schermi, fuori dall'animazione, sono stati coinvolti anche loro nello scandalo e negli scandali anche se in scala ridotta rispetto ad altri personaggi ma anche John Lasseter è stato un maschio che ha fatto mea culpa e che ha fatto marcia indietro e allora ecco che la marcia avanti va anche attraverso le donne, il potere della donna che è presente, molto presente dentro Toy Story 4. La donna ovviamente può essere anche un giocattolo e dopo questo flashback bellissimo arriviamo alla donna che è una piccola donna, si chiama Bonnie, Woody e gli altri giocattoli stanno con lei, lo sappiamo, lei è cresciuta e c'è stata un'integrazione tra giocattoli di lei e giocattoli non di lei perché Woody, Buzz e tutti gli altri come sapete arrivano da Andy, che non c'è più e che è cresciuto ed è andato via e questo è un film sulla difficoltà del prendere nuove strade, ma da parte di chi? Degli umani? No, ovviamente da parte dei giocattoli, a questo punto c'è Bonnie e Bonnie bisogna aiutarla senza farsi vedere e Woody è sempre molto attento e Woody è sempre molto concentrato, però c'è quel ricordo di quella notte buia e tempestosa e piena e soprattutto molto piovosa in cui qualcuno andò via e qualcuno andò via con una serenità che a Woody ha colpito molto in quel momento e che Woody non dimentica perché c'era serenità in quel distacco dal senso e dal senso esistenziale dell'essere un giocattolo, perché? 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 Perché a un certo punto Woody ritroverà tutto in questa quarta avventura e guardate è un cartone stupendo anche sulle storie di giocattoli diversi, giocattoli che vengono da epoche diverse, questo già c'era ovviamente nel contrasto tra Buzz e Woody all'interno del primo Toy Story di Last of the 95, giocattoli di fabbricazione diversa, giocattoli che rappresentano mondi diversi, però qui ancora di più, ancora di più, è una meraviglia questo film e quindi parte questa avventura che ci porta anche dentro la nascita di nuovi giocattoli, eccolo, il lato politico di Toy Story 4 con tutta una nuova, nuove domande, nuove dinamiche e si gioca, guardate, è il Toy Story che gioca di più con l'horror perché dell'horror non prende solo l'idea del giocattolo spaventoso, la bambola assassina, Chucky, sta arrivando il nuovo Chucky, noi vediamo adesso Benson che è molto importante, molto importante dentro questo film, è molto gotico, è il Toy Story più gotico di questi, andiamo ad antiquariare di questi negozi di antiquariato che in realtà raccolgono grande, grande, grande disperazione tra gli scaffali, raccolgono grande orrore che nasce dalla nostra sofferenza e quindi è proprio il gotico con la casa abbandonata e le persone che stanno lì dentro, il maggiordomo e la donna, è sempre il femminile che regola molto più del maschile i destini di questi personaggi, che meraviglia e dell'horror c'è un'altra cosa molto sottile che mi ha sconvolto e cioè perché mi hai richiamato, io stavo tanto bene, perché mi hai voluto dare la vita e quindi c'è Frankenstein, chi sono io nel momento in cui tu mi hai creato e guardate questo loro lo fanno mescolando delle cose che come al solito sono apparentemente incongruenti tra loro ma è questo il segreto della Pixar, lo sappiamo da una vita e questo è l'idea che la gioia e la tristezza debbano andare di pari passo di inside out e che quella bambina triste e depressa all'ultima fila del banco è l'idea che ti dice che tu la devi conoscere, che tu la devi accettare, che tu la devi, che lei ha un senso preciso, è una sorta di bilanciamento come la centrale nucleare di Chernobyl, è un bilanciamento tra la positività e la negatività che ci porta ad essere delle persone forse vagamente equilibrate e frequentabili. Allora quello era inside out, qua c'è sta roba pazzesca dell'orrore e però ci devi parlare con l'orrore e ci devi avere a che fare con l'orrore e devi assumerti le tue responsabilità. Quello che io ho adorato di Toy Story 4 è che è un film che ci spinge a tornare indietro, a non mollare, a uscire dalle nostre stanze e andare a recuperare qualcuno. È un film dove effettivamente come mai nei Toy Story il giocattolo è il genitore e quindi sa benissimo il genitore che deve essere presente e se qualcuno cade lo rialza e se qualcuno gli sputa se prende lo sputo quando diventerà adolescente e questo io che non sono genitore l'ho sentito e non lo sarò mai, l'ho sentito fortissimo e penso che sia un film magnifico da questo punto di vista. È anche un film sui genitori, è un film su tutto, è una cosa pazzesca e il mostro che siamo noi ovviamente in qualsiasi momento in cui possiamo diventare mostro è solamente qualcuno con cui tu devi parlare e anche a lui lo devi aiutare, anche verso di lui devi andare. Cercando di capire attraverso la lotta politica del femminile, perché è attraverso il femminile che si va avanti, questo ci dice Toy Story, che forse appunto ognuno di noi deve in un momento della vita avere il coraggio di privarsi di qualcosa e a quel punto ovviamente andare verso qualcosa altro che aggiungerà qualcosa dentro di lui e fuori di lui. Vabbè insomma stiamo proprio a dei livelli di cinema altissimi, tra i più alti che abbiamo presente oggi perché si va verso il bambino ma in realtà un 44enne, un 50enne, un 60enne, un 30enne, chiunque vedrà Toy Story 4 troverà qualcosa che parla di lui. Peraltro è molto brillante l'idea dell'ampliare gli anni di fabbricazione dei giocattoli. Qua ci sono dei giocattoli degli anni 50, 60, 70, 80, ma anche più vecchi e qua arriviamo ai incubi notturni, arriviamo a Benson, arriviamo a giocattoli degli anni 40, 50, 40, andiamo ancora ben dietro, andiamo verso anche qualcosa degli anni 30 e quindi varie generazioni di spettatori potranno capire che qua si sta giocando a un livello veramente molto alto, che porterà spin off, già ci sono, già ci saranno, ci sono nuovi personaggi, nuove storie, nuove filosofie, nuovi mondi, è come quella che alla fine del Trono di Spade prende parte e va, che cosa c'è di più bello di dire ma che ne sai che c'è dall'altra parte, no? Ma che ne sai che c'è? Ci provò Ulisse, lo racconta a Dante e Virgilio, io volevo sapere cosa c'era oltre le colonne d'Ercole, c'è sempre un racconto oltre le colonne d'Ercole, qui hanno trovato qualcosa, hanno inventato qualcuno e questo apre tutto un nuovo universo. Quindi si può andare qua, della spin off, serie televisive, nuovi Toy Story, nuovi Toy Story e vabbè, insomma, questo rientra nella capacità di creare storia. Con questa roba qua, che capolavoro è come Arya Stark che prende parte e va ed è la nuova Ulisse ed è geniale l'idea, io non vedo l'ora di vedere ovviamente tutti i viaggi di Arya Stark e sono convinto che li vedrò. Spero di vivere abbastanza per vederli. Ok, allora, questo è la voglia di fare grande cinema perché questo è veramente uno dei più grandi, forse il più grande cinema in un momento in cui ci stiamo chiedendo, io mi sto chiedendo sempre più spesso che cos'è cinema e non c'è più il cinema, che cos'è? E allora le serie televisive, questo è veramente quella roba là che la società prende, va davanti a un grande schermo e lo necessita e se prende per mano e ci può essere un nonno, dei genitori, sì, ecco, cioè quando si parla di famiglia che va al cinema io penso che spesso si parla dei genitori e dei figli. Invece io sogno, per me il pubblico perfetto di Toy Story 4 è nonni, genitori, figli e secondo me tutti vanno fuori di testa per questa roba. Che classe! E chi sono sarebbe mai aspettato che fosse così, potesse essere così bello Toy Story 4? Perché a me mi ha completamente sorpreso, cioè non mi aspettavo che fosse di questo livello qui. Wow! Sentiremo parlare di parecchi nuovi personaggi e la faccenda non finisce qua assolutamente. Grande, grande cinema. Ciao BetTaste! Subscribe! La voglia di raccontare storie non è legata ai soldi, è legata alla nostra voglia di raccontare storie e trovare un senso dentro queste storie. secondo me loro l'hanno trovato molto forte e molto potente. Be bad. Ciao!